Siamo qui stasera con voi per festeggiare l'intredibile trentesimo anniversario di Radio e ancora di più per stare insieme, sì perché il nostro non è un concerto, è un incontro, la nostra musica parla con le parole di Dio, quindi quello che chiediamo è noi mettiamo la nostra voce, vogliamo, vorremmo, voi mettersi le mani per batterle insieme, se volete cantare, badare, alzarvi in piedi, noi siamo qui per passare una bella serata e per far vederli a me di come siete arrivati, questa è Bello! V治. V Athena V治. Nazis Gli altri Integra Bli altri No Grazie a tutti 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 Grazie a tutti